C'è un ultimo capitolo che vorremmo cominciare ad affrontare, dico cominciare perché in realtà è talmente importante come questione, poi riferirà domani sera in commissione il ministro Franco e occuperà l'attenzione pubblica e quindi anche i nostri giornali radio e i nostri approfondimenti, mi riferisco ovviamente a Monte dei Paschi di Siena. La brevissima rassegna stampa prima di andare da Lando Maria Sileoni, la solita fuffa giallo-verde su MPS, questo è il foglio, domani è ora che la politica dica la verità sul Monte dei Paschi di Siena, dalla stampa di Torino è il titolo di apertura di domani, il piano di Orcel per Monte Paschi a Unicredit, 1250 sportelli su 1400, è una prova per tre leader, anche qui titolo di apertura del foglio, tempesta perfetta nel Partito Democratico, la corsa al seggio Padoan diventa un caso politico, sinistra, draghi e banche, quello che non ci dicono, insomma i temi sono moltissimi, non chiamerò ovviamente Lando Maria Sileoni sui temi politici ma sui temi che riguardano invece il personale, le prospettive, l'impatto di un'eventuale acquisizione da parte di Unicredit su quello, credo che le riflessioni e le risposte di Lando Maria Sileoni che è segretario generale della Federazione Autonoma e Bancari Italiani siano importanti. Sileoni, buongiorno. Buongiorno. È preoccupato? Siamo preoccupati, sono preoccupato per la confusione essenzialmente che è stata fatta fino ad oggi da parte di molti partiti con una disinformazione che rasenta veramente il grottesco. Ma cioè fondamentalmente non c'è niente di certo, a danno tutti per scontato l'operazione, ci sono 40 giorni per chiudere una trattativa tra Unicredit e il MEFI diciamo, quindi fino al 7 settembre si tratta e fino a quel giorno l'esito finale non è per niente scontato, è una partita estremamente aperta. Se si concluderà e se si riaverà un accordo chiaramente uno dei problemi principali per noi il problema principale saranno la presenza di eventuali superi come l'eco da qualche parte. Noi abbiamo un ammortizzatore sociale che lo chiamiamo semplicemente Fonde Sub. Sì, questo è importante, lo dica forte e chiaro per gli ascoltatori perché questo credo sia un punto molto importante. Sì, è un accordo sindacale che abbiamo fatto nel 2000 con le banche, siamo stati molto lungimiranti, che ci ha permesso, evitando i licenziamenti, in Europa venga presente, sono stati negli ultimi anni, ci sono stati 360 mila licenziamenti grazie al Fonde Sub, grazie al sindacato in Italia, nelle banche nemmeno uno. Con questo ammortizzatore sociale che non è finanziato dallo Stato nemmeno da un euro, ma viene pagato dalle banche, noi abbiamo... Ecco questo lo dica, lo dica perché tutti diranno ci costerà, ci costerà, ci costerà. No, non ha mai costato un euro, pagano le banche, i lavoratori vanno in prevenzionamento volontario per un massimo di sette anni e con questo sistema abbiamo negli ultimi otto anni prepensionato, quindi evitando il licenziamento, oltre 80 mila persone. Poi tenga presente che abbiamo fatto un altro fondo per l'occupazione e ne abbiamo assunti altre 30 mila, quindi 80 mila se ne sono dati volontariamente in prevenzione o in pensionamento volontario e 30 mila ne abbiamo assunti. Con questo sistema noi abbiamo abbassato il costo del lavoro del settore bancario in Italia rispetto al settore bancario in Europa e abbiamo evitato i licenziamenti. Scusi signori, ma se parlassimo di 5-6 mila esuberi questo fondo basterebbe? Guardi, basterebbe fino a un certo punto perché ci vuole un finanziamento, in questo caso sì, da parte dello Stato, perché lo Stato ha il 68% di proprietà del monte, quindi dovrebbe alimentare, come fanno tutte le banche. Quindi non basterebbe il fondo esuberi, questo ci sta dicendo? Non basterebbe il quantitativo di denaro che c'è sul fondo esuberi, servirebbe un finanziamento da parte dello Stato attraverso il monte dei Paschi, quindi il monte del Prevento è lo Stato da dei soldi al monte e il monte da dei soldi al fondo esuberi e quindi con questo sistema noi potremmo prepensionare. Ma guardi che è la fotocopia e l'operazione, io poi non capisco tanta, la capisco perché siamo un campagna elettorale permanente, ma non è neanche giusto. Ma è la stessa operazione, la fotocopia, salvo qualche formalismo tecnico, del salvataggio delle due banche venite da parte delle banche intese. Anche allora intervenne lo Stato. Io vorrei ricordare a tutti i clienti delle banche... Chi ci mise 5 miliardi, se non sbaglio, Sileone. Sì, sì, oltre 5 miliardi. Io vorrei ricordare a tutti i clienti delle banche e a chi ci ascolta che se dovesse fallire una banca c'è un rischio sistemico per l'economia di tutto il Paese. E poi noi non possiamo permettere che in questo caso 22 mila lavoratori e lavoratrici del monte dei Paschi vadano a parte. Ora, Sileone, mi correga se sbaglio, la sua impressione è che ci sia una spinta da parte di un pezzo della politica a dire non interveniamo in questa vicenda, soprattutto che unicredit non si prenda il monte dei Paschi di Siena, perché per ragioni evidenti e anche per quelle che vengono considerate le responsabilità del Partito Democratico, questa è una lettura a suo avviso sbagliata e fondata su dati sbagliati, da quello che capisco. Sono state esasperate delle situazioni, i numeri non sono quelli che sono stati detti, lo spezzatino, anche noi siamo contrari allo spezzatino, ma poi vedremo se c'è questo spezzatino. Perché come oggi un giornale scrive che potrebbe unicredit tenersi 1.250 portelli su 1.400, questo significa che ci sarebbe eventualmente un mino spezzatino con 100 filiani che andrebbero molto probabilmente a MCC, al gruppo popolario del Bari, perché c'è un progetto di costruire una banca del Sud. Ma l'aspetto più importante è che la disinformazione poi toglie fiducia alla clientela, toglie fiducia ai cittadini. Questo è un problema, chiaramente non bisogna svendere niente, ma è un problema che va affrontato per quello che realmente è. Sono stati buttati dalla finestra 20 miliardi di aumento di capitali da parte dello Stato dal 2010 ad oggi sul mondo. Sì, guardi Sileoni, razionalità anzitutto, questo è l'invito se non sbaglio di Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, ci stava ascoltando Antonio Misiani che sta seguendo il dossier MPS, molto delicato per il Partito Democratico, anche oggi severe analisi sul ruolo storico del Partito Democratico a Siena e MPS. Buongiorno Misiani, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. In una lettera a Corriere della Sera lei dice quali sono per voi i punti fermi. Sono cinque, forse non facciamo il tempo a ripeterli tutti, devo dire che l'intera prima pagina del quotidiano domani che suggerisce di dire la verità alla politica fa un quadro talmente drammatico degli errori e del presente del Monte di Paschi e Siena che forse le ipotesi che voi suggerite suonano un po' illusorie, Misiani. Ma guardi, noi dobbiamo approcciarci con freddezza e con razionalità. Gli stress test hanno detto che il sistema bancario italiano è complessivamente solido nonostante la drammatica recessione del 2020 con un punto di fragilità in MPS. Nel suo MPS è necessario assumere una decisione. Il MEF e Unicredit hanno esplicitato un interessamento di Unicredit nei confronti di MPS. Ci sono altre ipotesi nel dibattito pubblico, l'ipotesi di un terzo polo che però è un'ipotesi di scuola e non concreta e l'ipotesi che MPS prosegua da sola. Noi ascolteremo con attenzione quello che dirà il ministro Franco mercoledì di fronte alle commissioni finanze e auspichiamo naturalmente che il governo espliciti le ragioni per le quali ritiene l'opzione Unicredit migliore e più efficace sia per MPS che per il sistema bancario nel suo complesso rispetto alle altre. C'è un tema occupazionale che va affrontato con grandissima... Però Sileoni non dico rassicurato, però ha fatto chiarezza e ha detto guardate non è molto diversa dalla questione Banche Venete e Banche Intesa. Ma guardi noi ripeto riteniamo necessario stare sul merito dei problemi evitando di fare propaganda. C'è un tema occupazionale, c'è una questione di evitare lo spezzatino, c'è da capire il ruolo dello Stato anche dopo un'eventuale operazione di aggregazione e c'è da costruire un progetto di rilancio per la città di Siena che qualunque sarà la scelta avrà un futuro inevitabilmente meno dipendente da MPS. E noi ci aspettiamo risposte su questi temi e ci aspettiamo un confronto nella maggioranza con le forze sociali, a partire dalle organizzazioni sindacali e con gli enti territoriali. Non credo che siano posizioni illusorie e quanto sta venendo fuori, ma ripeto aspettiamo le parole ufficiali del Ministro Franco, credo che possa rispondere efficacemente alle sollecitazioni nostre. Una domanda secca, la Ruocco, Presidente della Commissione sulle banche, chiede di domandare più tempo a Bruxelles, ma qui le rispondo, è dal 2017 che sappiamo che dovevamo chiudere entro quest'anno, è illusorio questo sbaglio? Ma guardi, tutti vorremmo avere più tempo a disposizione, però, e lo sentiremo immagino dal Ministro Franco, io ritengo molto complicato ottenere più tempo dall'Europa e in ogni caso il risultato degli stress test che pone Siena all'ultimo posto tra le grandi banche europee, con un indice CET1 negativo nello scenario più avverso e quindi che evidenzia una situazione problematica, io credo che renda necessaria una decisione sul futuro della banca. Emigiani, veramente 30 secondi, Padoan, l'ETA che si candiderà in quel collegio, il Partito Democratico è consapevole che qualsiasi mossa faccia verrà accusato di essere il responsabile del disastro? Ma guardi, abbiamo letto e ascoltato fango, falsità nei confronti del Partito Democratico e ricostruzioni fantasiose di scelte che invece hanno salvato MPS, perché Piercarlo Padoan, da Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha salvato una banca che altrimenti avrebbe avuto esiti ben peggiori. Poi ha fatto scelte personali e sottolineo personali che non hanno a che fare con il Partito Democratico, ma la storia va ricostruita per quella che è. Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico, grazie. Ovviamente noi attenderemo l'audizione del Ministro Franco e poi molto probabilmente ce ne occuperemo il giorno successivo, audizione domani. Gianni Tole, Alessio Caranzetti stamane in consola, Andrea Cacciagrano in regia e poi la redazione di Radio Anch'io che ogni giorno costruisce questa trasmissione, Adamarra, Elena Zabeo, Cecilia Mosetti. Noi vi ringraziamo molto per averci seguito, anche aver seguito quest'ultima parte dedicata all'economia e MPS. Domani altri temi di grande importanza, crediamo, perché oggi avverranno fatti di rilievo. Fatti di rilievo sono avvenuti a Tokyo, ne daremo conto tra poco, con tutte le Olimpiadi minuto per minuto. Grazie per averci ascoltato, a domani.